E' una Fiat 600 la seconda macchina perforata da colpi di arma da fuoco al quartiere Sant'Elia a Brindisi. L'episodio segue di sole 24 ore, un altro analogo, accaduto la notte tra domenica e lunedì nello stesso quartiere. In quella occasione di essere presa di mira era stata una Peugeot 106 di proprietà di una donna, proprio come l'ultima auto colpita in piazza Raffaello. La Fiat 600 infatti è di proprietà di una quarantenne di Brindisi. Tre i proiettili sparati contro un finestrino da una calibre 9. Ad accorgersi dall'accaduto questa mattina è stata la sesta proprietaria della vettura che ha immediatamente chiamato sul posto i carabinieri della compagnia di Brindisi. Non ci sarebbero testimoni, nessuno avrebbe visto nulla. Alcuni particolari analoghi tra i due episodi lascerebbero sopporre agli investigatori, però chi a sparare potrebbe essere stata la stessa arma e la stessa mano. Resta il mistero sul movente.